Gossip TV Le confessioni di Vittorio causano la reazione immediata della direzione del grande fratello. Poco manca al secondo episodio di Big Brother, che verrà trasmesso stasera venerdì 15 settembre 2023 a Canale 5. Nel frattempo, il GFino Vittorio Menozzi si è lasciato andare alle rivelazioni che hanno causato la reazione della direzione, che è cambiata immediatamente licenziare la direzione del GF censura Vittorio Menozzi ecco perché. Poche ore dopo l episodio, Vittorio Menozzi è stato censurato dalla direzione del grande fratello. Come riportato da Bicri, modella parmigiano ha detto che aveva fumato alcune strane sigare che poi le hanno fatte viaggiare. Durante mi sono reso un po' speciale e si garan, e poi ho fatto viaggi tutta notte. Sì, è iniziato tutta. Le dichiarazioni di Vittorio hanno inevitabilmente causato reazione del GF. Che ha immediatamente cambiato la stanza. Questa. Inquadrando sala vuota per alcuni secondi. Ginevra Lamborghini e Alex Bellite con Fashion on Carlo Conti ricorda che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera. Venerdì 15 settembre. Nella prima serata a Canale 5. 15 concorrenti ancora in gioco in casa Grecia Colmenares. Alex Schweizer. Beatrice Luzzi. Letizia Petris. Giselda Torresan. Vittorio Menozzi. Paolo Masella. Massimiliano Varrese. Rosy Chin. Giuseppe Garibaldi. Angelica Baraldi. Marco Fortunati. Samira Im. Lorenzo Remotti e Anita Olivieri.